Ormai è chiaro, se si vogliono modificare in modo sostanziale le norme che regolano l'esame di Stato sia del primo che del secondo ciclo, è necessario un provvedimento di legge. Lo ha ribadito proprio domenica sera la stessa Ministra Azzolina nel corso di una diretta Facebook. Le disposizioni sugli esami di Stato sono contenute infatti nel decreto legislativo 62 del 2017 e non possono essere modificate con un decreto o con una ordinanza ministeriale. Ma vediamo più nel dettaglio. L'articolo 13 del decreto parla dei requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Frequenza scolastica, partecipazione alle prove invalsi, attività dei PCTO, cioè la vecchia alternanza scuola-lavoro, vuoto nello scrutinio finale. La questione più complicata però è quella relativa allo svolgimento delle prove d'esame di cui si parla nell'articolo 17. Il primo comma riguarda il cosiddetto documento del 15 maggio, che risulta quindi espressamente previsto dalla legge e che può dunque essere eliminato solo mediante altro provvedimento avente valore di legge. Il secondo comma parla esplicitamente di due prove scritte e una orale. Il Ministro, recita poi il comma 8, sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Anche in questo caso la lettura coordinata di tali norme lascia intendere che, se si volesse ricorrere a prove predisposte dalle singole commissioni d'esame, sarebbe indispensabile stabilirlo con una legge specifica. Insomma, gli spazi per modificare le regole di svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo senza ricorrere ad una legge sono piuttosto stretti. L'ipotesi di cancellare l'esame di Stato anche solo in via provvisoria per quest'anno scolastico risulta poi del tutto impraticabile, per il semplice motivo che l'esame di Stato conclusivo del corso di studi è previsto non da una legge ordinaria, ma addirittura dalla Costituzione e precisamente dall'articolo 33. E, come è noto, rivedere una norma costituzionale richiede un iter legislativo particolarmente complesso e anche molto lungo, non inferiore a 7-8 mesi nella migliore delle ipotesi. Lo stesso discorso, e bene ricordarlo, vale anche per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anch'esso normato dal Decreto 62 del 2017 e previsto sempre dalla Costituzione. Per quest'anno, quindi, l'esame di Stato ci dovrà essere e, se lo si vuole rendere più leggero, è indispensabile adottare un decreto legge in tempi rapidi. Ovviamente, su questo tema, che è di grande interesse per moltissimi insegnanti e per almeno mezzo milione di studenti e per le loro famiglie, noi continueremo a tenervi informati. Quindi, continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul portale della nostra testata www.tecnicadelascuola.it. Continuate anche a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni e i vostri suggerimenti. Noi ne terremo conto, come sempre.